Terminerà domani la visita pastorale del Vescovo di Summona Valva, Monsignor Angelo Spina, ad Amversa degli Abruzzi. Un momento di grazia per la comunità e il presule che si incontrano nel corso della vita pastorale. Dopo la visita alla riserva naturale e la Santa Messa di Apertura nella chiesa di San Marcello, il prelato ieri mattina doveva visitare la scuola primaria. L'incontro è esilitato per motivazioni puramente burocratiche, spiega Monsignor Spina ad Onda Tg. Non abbiamo fatto in tempo ad ottenere i permessi necessari. La visita alla comunità scolastica di Amversa è semplicemente rinviata a data da destinarsi. Le parole del presule scongiurano così la notizia che sta rimbalzando in queste ore sul web dove si parla di discriminazione religiosa. Il fatto che il Vescovo non abbia più visitato la nostra scuola, chiarisce il parroco di Amversa, Don Oliviero Liberatore, non è da relegare alla presenza degli alunni musulmani. Nessun deniego infatti è stato imposto al Vescovo Spina, solo un problema nell'iter burocratico. In questi giorni la comunità anversana sta accogliendo con fede il suo pastore. La visera pastorale ad Anversa degli Abruzzi intanto si concluderà domani, solennità di tutti i santi, con la celebrazione eucaristica di chiusura.